abilità di assimilare dalla vita dalle persone e non solo dalle loro idee quindi l'abilità di assimilare ogni giorno dagli odori i sapori i colori le luci tutto ciò che ci passa davanti vi dà l'opportunità di apprendere qualcosa e di portarvela a casa e quindi di non subire la vita e ho appena finito di leggere il libro di jim ron sulle chiavi principali del successo e si parla appunto di questa abilità l'abilità di assimilare e diciamo che non tutti se ne rendono conto nel senso che molte volte ci troviamo tutti noi a tutti noi capita di trovarsi magari ad una riunione oppure a scuola mentre un gruppo di persone parlano e la mente parte va per conto suo si pensa alle proprie cose si pensa va questo argomento alla fine non mi interessa e ci si perde una parte della vita in realtà perché apprendere di tutto è fondamentale nel senso che non si sa mai quando questa informazione o quest'idea o questo piccolo dettaglio nella vita ci potrà essere utile quindi vi consiglio di cercare di assimilare ogni giorno qualcosa di non dare nulla per scontato e di continuare ad apprendere ogni giorno quindi di vivere al appieno la propria vita con ogni singola esperienza che si viene effettuata anche le più negative perché molto spesso le esperienze negative sono quelle che poi ci riescono a far capire cosa vogliamo cosa non vogliamo che cosa ci piace come siamo quali sono i nostri limiti e se riusciamo poi a superarli piccola riflessione di oggi spero che questa questa riflessione vi possa essere in qualche modo utile quindi vi solo vi consiglio di assimilare il più possibili ogni giorno della vostra vita e ogni piccola cosa di godervela al massimo buon amici